amici di bella sicilia siamo a castel di tusa oggi 2 giugno un festo della repubblica posto meraviglioso mare calmissimo colori stupendi in fondo si può osservare la piramide e questo è il suo molo che ci porta direttamente a mare mare premiato tantissime volte con la bandiera blu e questo è il suo molo che ci porta a fare un'occhiazio a fare un'occhiazio a fare un'occhiazio E' il massimo sulla roccia. Controlla come l'acqua, se è calda. No, no, non ti bagnare. Non lo so come non ti bagnare. Bianca in campagna, vorremmo fare un angolo.